Ciao ragazze, oggi è l'ultimo dell'anno. Non è vero, è il 30. Sfigata. Lo usè! È il 30. Ma se lo vediamo domani? Oggi che giornale vale? È il 31, ragazzi. Ragazzi, toggo le scarpe perché c'ho voglia di toglierle. Allora, prima di farvi vedere tutti gli auguri, farvi vedere perché noi non ve li facciamo, ve li facciamo vedere. Yeee! Oh! Ve li facciamo vedere gli acquisti. Sì, sono andata alla Cicco e ho preso questo. Chi? Questo qui. Ah, sono a casa della Vale. Non so se erano tanto, è diverso. Background. Mostra che bella parete che ho io, molto, molto figa. Molto figa. Yeee! Ed è questo. Ed è questa, costava 2,90 euro. Ed è la... 12. 12. Poi ho preso... Un'altra Glamourous Eye Pencil. Mi fai dare il reggisciare? La 414, quella nera perché mi era finito, mi sta finendo. Pianta! E dato che sono una figa assurda, io può, l'ho ripresa. Vai, vai avanti, tu. No, sto pensando a chi potremmo dedicare questo figlio. A chi potremmo dedicarlo? Lo dedico a Yahi. No, questo è sempre caro. Poi al sempre a 3 euro ho preso questo, che è il 165. Ciao, Ami. Oddio, merda. In onore della Greta, che è tornata da New York. Veramente? Mmh. L'ho bloccato. Tu fai vedere i tuoi acquisti. Ah, io ho acquistato cose che non vi mostrerò per qualche indicio. Dato che c'era la Gialissa presa dal suo influsso, le ho detto fammi comprare un rossetto rosso, perché c'avevo voglia domani di mettermi un rossetto rosso. No, Giali, non voglio che tu mostri il mio intimo. Il mio intimo, Cecilli. Esattamente. Il mio intimo. No, basta. Fermati. Oddio, oddio. Allora, mi ha fatto prendere questo rosso. Perché? Vale, capito? Quando tu vedi il rosso dici, cavolo, il rosso. Mi ricorda lei e quindi non lo metterò mai. Ma vaffanculo, Valentino. Ehi, ho! Quindi, cosa facciamo? Allora, facciamo tanto. Non mi fa vedere la gonna? No, davvero. Sì. Perché si è ricordata che ho comprato anche una gonna. Eppi, pimpi. Dato che domani sera non... Gialisa non... Praticamente ha bocciato ogni mio qualsiasi abbinamento formulato e mi ha detto, comprati... Mia mamma mi ha detto, comprati una gonna. E io, ok mamma, mi comprerò sta gonna solo per farti continuare. Eravamo nel camerino. Allora, questa. Che è strana, perché non è molto nel mio stile. Però, vabbè, c'ha le borche, quindi posso dire di sì. E l'ho preso da pimpi. Mi spiegate il senso di twister con le dita? Cioè, quando me lo spiegherai... Ce lo spiegherei, ma dopo, quando si spegne la fotocamera. Vaffanculo. Tanti auguri di buon anno! Io direi... Allora, innanzitutto volevo tanto salutare Exo Barbie, che so che non ha più un canale di YouTube. Veramente? Eh, sì, non commenta più, poverina. Magari gli hanno tolto il computer, magari gli si è eliminato l'account. Però Exo Barbie, se tu guardi ancora i video, sappi che sei sempre, sempre nel mio cuore. Ogni tanto ti penso. Io non c'è nessuno a cui salutare. Sono una forever alone. Ah, Asia, che ha dato il nome di... Gisela. Asia, 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 saluto Asia. Ciao Asia, ciao Asia, ciao. Poi chi è che possiamo salutare? Basta. Ma volentieri. Io, no, in realtà volevo fare un saluto. Io adesso faccio una foto, faccio una foto e la pubblico su Twitter. Ragazzi, io ho un lobo diratato, se voi non l'avessi mai capito, io ho un lobo molto diratato, un centimetro. Non lo trovate estremamente sexy? Io lo trovo estremamente sexy. Saluto mio padre. Saluto mio padre. Ciao Amanda. Saluto mio fratello. Ciao Iari, amore mio, bellissimo. Salute. No. Troia di merda. Ciao Carca. Io non credo è Carla. Ah, l'avevo intuito, cioè non è che sono così scema. Non riprendere, vabbè, riprendi il mio diario. Ah, io volevo farvi vedere la mia nuova maglietta molto fica, con scritto give pizza a chance, che ho sulla colana che mi ha regalato già lissa. Facciamo un outfit, facciamo un outfit. L'outfit. L'outfit. Outfit. Allora. No. Non è un'altra storia porn. Muovite per sto outfit. Ma l'ho fatto il mio outfit. Vogliamo riprendere la mia camera? No. No, perché ci sono tutte le foto e non vorrei violare la privacy della mia famiglia. E del tuo tipo. Cacchio, l'hai rivelata tutto il mondo. Io sì, sono la futura sposa del re d'Inghilterra. No, non del re d'Inghilterra, perché se è re, magari è già sposato. Infatti, no. Perché io ho la futura rec in faccia? No, è re mio, mi dispiace. No, no, è re di Windsor. Chi è che è single fra le due? Dopo esalo sempre come scusa questa, eh. Questa è un'infamia. Io sono quella single del gruppo, per cui io posso farmi chi mi pare piace, compreso a re mio. Tecnicamente potrei farla anch'io. Se violassi il mio criterio di fedeltà. Però, ciao Bela, ciao Bela, ciao Beli. Allora, noi volevamo... Facciamo un... La cosa più bella successa nel 2012. Aspetta, io vorrei dire che il 2012 è stato... Ma ci stai provando con me con la gamba sulla mia coscia? E' stato un anno veramente fantastico. Vorrei ringraziare tutti, partendo da me e finendo con me. Meme. Meme. Che è... Fuuuuk. La Vale vorrebbe ringraziare quella ragazza che ha detto che stiamo male insieme. Sì, appunto. Io sono molto, molto, anche se non si direbbe, sono molto arrabbiata con quella ragazza. Molto arrabbiata con quella ragazza. Ehm... Volevo dire che la vita è ingiusta, ma dovete solo fare keep calm and chat with me. Yeah! Fallo partire, fallo partire. Eh? Fallo partire. Va bene, dai, ciao. Ma tu dove sei adesso? Sono a casa della VAP. Va bene, dai, ciao. Ciao. Quando io guardo i miei capelli, tu devi notare che io ho questa faccola. Facciamo una garacchia ai capelli più lunghi. E va a fan bagno. Grazie, io li ho tagliati a settembre. Cioè, scu... Perdonami, li ho tagliati a settembre io. Però i miei sono più belli perché hanno i riflessi rossi naturali. E tu? La Vale ha oggetti ambigui in caldo. Sono di mia sorella, sono le cuffie per l'iPhone. Veramente? Giuro. Dove le vedi le cuffie? No, tu metti l'iPhone qua dentro. Allora, facciamo un tutorial. No dai, non è divertente. Non è divertente. Voi mettete l'iPhone qua dentro. E poi esce da qua il suono. Non so per quale strana magia nera, però funzionano. Con l'iPhone, col mio iPhone. Vorrei ringraziare il mondo per avermi dato la possibilità di essere venuta... Ah! Makeup Delight mi ha risposto. Lo so, ha visto. Makeup Delight mi ha risposto, guardate. Ragazzi, io volevo... Guardate. Questa qui. Cioè, raga, Makeup Delight... Oh, ho un tweet. Non è vero, scherzavo. Dai, ringraziamo qualcuno intelligente. Makeup Delight... Dai, ok, allora... Batteria scarica, no, zia? Ciao a tutti, ciao a tutti. Saluta che dobbiamo scrivere. Ciao. Ciao a tutti.